Abbiamo votato favorevolmente alla risoluzione presentata dal consigliere D'Addazio per quanto riguarda i trasporti verso Penne, verso le scuole di Penne. Sappiamo quanto importanti siano queste scuole, il livello di professionalità. Sappiamo anche che il gruppo di opposizione a Penne in Comune aveva presentato una risoluzione votata all'unanimità ma lasciata lì. Oggi non possiamo che naturalmente apprezzare il lavoro portato avanti dal consigliere D'Addazio. Auspichiamo che la regione dopo questa risoluzione porti avanti i collegamenti dalla pianella verso Penne ma anche verso la Valfino per fare in modo che queste scuole possano recuperare la brillantezza di un tempo. Ricordiamo che negli ultimi dieci anni Penne si è spopolata di 1.060 abitanti. Ferale sono stati i colpi di questa giunta di centrodestra nei confronti dell'ospedale che ancora oggi non vede neanche partire i lavori di riqualificazione e ha tantissimi spazi vuoti, letti che non sono stati assolutamente funzionalizzati. Ci auguriamo che almeno sulle scuole dopo un anno di tempo si possa correre.